Diramato l'elenco dei convocati di Fabrizio Castori, tecnico del Cesena, in vista della delicata gara interna contro il Foggia, in programma domani, ore 15, al Manuzzi. Questa la lista completa dei bianconeri. Agliardi, Mordini, Laribi, Eguelfi, Fazzi, Schiavone, Moncini, Dalmonte, Esposito, Panico, Don Cor, Male, Cupiz, Melgrati. Cone, Vita, Sbrissa, Farabegoli, Dinoia, Setola, Giallo, Rigione, Fulignati.